Buonasera, 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 io sono con Cesar Reco, sono un consigliere di ragionare di Bardova, naturalmente retta con le 45 stede, sono fierissima e grazie per oggi un ospite per lo speciale che è il vicepresidente Luigi Di Maio e con lui il deputato Mattia Patinati e il nostro candidato Iacomu Berti. Prima di passare la parola per l'intervento parlamentare a questi abbinati, voglio soltanto ricordare a noi tutti che siamo cittadini di Bardova e dentro immediatamente del tema, come la nostra città apparteneva a quella che era la pulla del privento, la pulla delle imprese, del commercio che oggi è un periodo di pesantissima crisi economica, una volta il vento era quello che veniva visto da tutta Italia come una sorta di meta da raggiungere, dove il lavoro non mancava mai e oggi questo è diventato un problema. Se il nostro vicepresidente vorrà passi una passeggiata per questa splendida città potrà notare, dove è che è oggi domenica, ma insomma si può notare come tantissimi negozi hanno chiuso, le vetrine sono abbassate, gli affitti sono carissimi, manca il lavoro e questo è un problema. Oggi parleremo del fondo per il fondo di garanzia, per le piccole e molte imprese, questo fondo che è stato costituito con gli sforzi e con gli stipendi dei nostri parlamentari, ma credo che questo che sta succedendo, che sta succedendo proprio adesso sia una cosa straordinaria per certi versi, ma in realtà rappresenta un'annumeria, è un'annumeria perché lo Stato è completamente da sempre e grazie a questa nuova classe politica composta da cittadini onesti che sono entrati nelle istituzioni, oggi è possibile realizzare questo fondo e aiutare persone che vanno ad iniziare una nuova attività di imprese proprio grazie al Movimento 5 Stelle, grazie veramente di questi sforzi e di questo contributo che loro ci danno. Passo la parola quindi al deputato sono anche un mattinato per l'intervento, grazie. Grazie, l'invito io abito qui vicino, passo un momento come voi, sono di vera una, ed è vero, quando io mi sono lavorato nel circa 2000, ci raccontavano che il Veneto era un po' un autore veritabile, non ce ne vogliono male gli altri, e noi eravamo sempre considerati quella parte della piccola impresa, dove chi imprenditore come me, perché anch'io ho avuto un'esperienza di piccola impresa, ci metteva del suo, non ho mai visto, conoscendo anche generando quegli imprenditori, un imprenditore che lo facesse per soldi, un imprenditore apre un'azienda che vuole scrivere il suo nome, vuole lasciare qualcosa, perché crede in qualcosa. Io quando sono stato un imprenditore mi dicevo assolutamente due cose, il primo, che ero in questo contratto, io vi assicuro che chi apre una propria attività, almeno la media, e lavoro sabati, le domeniche, le notti, non è assolutamente, non lo fa per soldi, ma perché ci crede, e la seconda mi dicevo che ero un evasore, tu sei professionista e quindi i vali dei passeri. Questo era un po' un mantra che a me raccontavano e alla fine la gente un po' ci crede, ma io vi assicuro che a me, come tanti altri, la prima cartella di cui l'Italia ho preso, sono stati 45 euro la settimana scorsa, ho preso la mia commercialista che ho preso quella giacchetta, è venuto in mente perché non l'aveva fatto il commercialista della Carvaldea dei Deputati. E quindi da qui si vede che, capendo veramente, oggi ne hanno chiesto dei Pavaradini in Italy, io mi sono sempre chiesto, ed è un lavoro che ne ho fatto nelle commissioni, nella commissione industria di cui io feci parte, se ne sono altri, anche i miei colleghi veneti. Perché ci siamo chiesti, appena arrivati al Parlamento, perché le aziende se ne vanno via? Perché le aziende se ne localizzano? E guarda caso, non per una studio che ne hanno fatto, ma basta vedere dati delice e si è capito che le aziende non se ne vanno dove la mano d'opera costa me. Noi, in Italia, abbiamo un costo del lavoro che è più o meno uguale a quello che c'è in Europa. Il problema è che il cuneo fiscale, perché il lavoratore, in Russia, in Italia, costa molto, riceve molto poco. Perché le aziende non se ne vanno in Turchia, in Brasile, in Cina, quali come a Sinta. La maggior parte se ne vanno in Francia, in Austria, in Svizzera, perché è molto più facile fare l'impresa. In Friul, noi veneti molto, se ne parliamo del Lentino, perché sono un po', anzi, molto autonome. E quindi, quello che noi vogliamo dire, era uno dei nostri primi martagli, perché noi l'abbiamo detto, è una cosa che abbiamo contato, è uno dei nostri primi martagli. Imprenditore, se tu te ne parli, più di dirti mi spiace, più di farti una classica, diciamo, una moda su escio, perché tu rimangi ancora, perché si chiude il cuore. Però se tu te ne parli, sono dei tuoi, nessuno non dirà niente. Ma se abbiamo degli esempi eclatanti, come per esempio la Fiat, te ne vai e hai preso un miliardo di fondi pubblici, ma se no, i soldi non sono più buoni. I soldi sono dei cittadini, che non credo che vengono, in all'altro dei soldi che tu facessi lavorare agli italiani. Questi soldi non sono tuoi e vanno restituiti. Dopo 8 mesi di parlamento, dopo 8 mesi di battaglie, di vittorie, di sconfitte, abbiamo fatto caso a questa prima misura. Se il imprenditore se ne va via, va e ha preso i fondi pubblici, gli soldi li lascia giù. Questa a me piace dirlo. Al Cittadini, questo dirlo anche oggi, perché sto perché qui ci sono le associazioni di categoria, se ci sono gli imprenditori, perché questa è una vittoria per tutte le venditori. Io sono figlio di aiutare chi resta in Italia, sono figlio di avere un fondo dei miei dipendenti per il mio credito a chi fa del lavoro in Italia. Se si parla di venditori, basta, ma guardate, giusto per farvi capire, noi non siamo come sempre del nome. E vi lascio così un suggerimento. Provate a vedere un filmato che l'ha fatto il MISEN, il Ministero del Sgruppo Economico della parte estera, dove racconta che noi siamo più bravi, che noi all'estero siamo bravissimi, che noi nel settore aerospaziale siamo fortissimi, che noi nel settore agroalimentale siamo eccezionali, però racconta di gente che se ne va dall'estero, di aziende che funzionano quando si arrivano dall'estero. Io vorrei invece raccontare e aiutare le aziende che rimangono qui. Perché io dico, ma se, perché un'azienda viene andata dall'estero per fare mercato? Perché forse all'estero non c'è uno stato che segua le rambe da questi due paesi che vogliono rimanere qui. E' questo che è stato fatto dall'omento 5 estero. E diciamo, le aziende, quindi lo chiamano due minuti. E' certo che quando si parla di aiutare le numeri non si tratta di proteggere in qualche modo le marche mettendo una nuova etichettatura, una nuova scrivere, una nuova procedura, perché questo va a portare costi burocratici alle aziende. Ci tratta di proteggere, che un governo deve proteggere le proprie aziende. In questo modo, come le abbiamo fatto vedere. E poi, e poi faccio un piccolo esempio. Voi volete andare in un banchetto, ma anche in un negozio di quelli che si trovano nei anticentri commerciali, e comprate una maglietta di quelle che ha seguita molto scariette, fatta magari in qualche paese di sudeste, Asia Antipo. O la potete comprare tramite in modo molto tranquillo. Voi prendete la stessa maglietta, questo ce l'ha detto a Prato, che non è fatta la modificazione, prendete questa maglietta, la stessa qualità, provate a vendola in Cina. Non entra, questa maglietta, però scarsa qualità, nel mercato di Asia Antipo. Perché c'è un mercato che vuole già sempre esso. Perché vuole portare dentro, sì, ma vuole portare dentro cose di qualità. Allora io mi chiedo, perché non possiamo fare la stessa cosa con noi? Se esiste un commercio in Europa, se si vale l'Europa unica, io vorrei anche che ci fosse un'armonia di tassazione in tutti gli stati europei, non può essere che un'azienda nell'interno dell'Europa, se ne vale in Romania oppure in Bulgaria, e abbia una tassazione molto, molto vantaggiosa. Così ci siamo messi. Allora, sentendo, perché come noi facciamo le imposte di legge? Noi ascoltiamo le varie associazioni di categoria, ascoltiamo per esempio l'agenzia delle donazioni, che guarda caso ci racconta che la contraffazione è calata di 12 volte tanto. Perché, dicono loro, perché se dieci anni fa, anzi, nel 2009, fermavano 11 milioni di pezzi all'interno dell'anno, il conto fa, ora ne fermano un milione e mezzo. Mi sembra che la contraffazione sia calata, sia quasi finita, è segnata, basta fare un giro per le nostre città. Allora, effettivamente, il piano che è successo è stata cambiata la legge. La fallace descrizione di un'etichetta, se io scrivo, anche su una camicia, fatta in Italia, prodotta in Italia, qualità italiana, prima se non era così, era un pre-auto penale, perché era un imbroglio, di un imbroglio, di un consumatore. Ora, è stato individualizzato, un illecito, a mezzo di noi. L'azienda è apposta a fare la punta, non solo, non solo per quando fanno le cose le fanno bene, ma addirittura, se un imprenditore fa al di là della merce, può anche non dire da dove proviene quella merce, e dire, non preoccupate che è senza delle donali, chi controlla i bordi per far arrivare la merce in Italia. Io adesso non vi dico da dove viene quella merce, però, quando io andrò a sistemare l'organismo degli scaffali, nel momento della commercializzazione del conto finito, io autocertifico che dico il vero. Allora gli abbiamo chiesto, ma che vantaggio ne ha? Che vantaggio? Chi ha la vantaggio? E poi scopre. scopre che ci sono grossi uniti nazionali che vogliono fare la camicia di bambini, vogliono metterci due bottoni, gli vogliono scrivere, quindi scopre che c'è un olio che parte da Spagna, che va in Tunisia, è tagliato nell'ultimo passaggio tra l'olio toscano, e c'è olio e extravergine due dita fatti in Italia. Allora, così cambiano le cose, lasciamo stare, anche io sono un problema del mercato di broccia, ma crede, anche io ho fatto un imprenditore, però io vorrei che fosse una carriera, chi fa in Italia non lo dice, io so che compro un prodotto di italiano, chi non lo fa è un imbroglio, e noi abbiamo chiesto se intorno alla sezione del 2009, perché un'etichetta falloce è un imbroglio al consumatore. Questo è il incontro di rinnovano. E questo non lo so, non riesce a stare, facendo. Come sapete sempre le leggi vengono fatte, non tanto per questa, l'articolo 18, non vuoi andare in merito, ma vengono fatte per ogni 1% delle aziende nazionali che vengono fatte, sueggi, ma bisogna Io mi aspetto che un governo faccia le leggi per il 98% dei grandi nazionali che sono piccole e medie, non per le grosse multinazionali. Allora, a pensarci male uno commette peccato, ma forse c'è azienda, forse sono queste grandi multinazionali che sostengono un governo, ecco perché vengono fatte provvedimenti per questo, per i grandi produttori di energia, per le grosse assicurazioni, che vengono fatte dalle banche. Ma noi chiediamo, non è che fanno un decreto legge d'urgenza con i piccoli medie di venditori che chiudono. Questo lo chiediamo. Io, come imprenditore, ma si intendo anche tutti, io non voglio né uno Stato, io non voglio né i favori né le mosse dello Stato. Io voglio una giustizia più fiscale giusta. Io non so voi, ma se uno a me non pagava, quindi doveva ottenere una cifra anche abbastanza piccola, 15-12 miliardi, ma non sono diverse. Perché l'Inter è abbastanza meglio i soldi di una giustizia così burocratica. Alla fine, se erano 15, se si concordava, se arrivava forse 7-8, alla fine dopo 10 anni forse, devo dire che l'esperienza personale, forse se ne intascava 5. Ma io voglio uno Stato giusto. Io voglio che uno Stato distingua, questo l'avevo chiesto, uno che non paga le tasse perché non ce la fa a pagare l'IVA, da uno che invece non paga l'IVA perché fa il furbetto e porta i soldi all'estero. Questo si chiede. Il governo sta depenalizzando il mancato pagamento delle tasse. Il governo dice che chi non paga le tasse sono dei criminali. Certo, le tasse devono essere pagate, ci mancherebbe, ma io voglio comunque che capire se uno non paga le tasse, non perché vuole fare il furbetto, ma perché non ce la fa. E questa è una proposta di legge ferma in Commissione di Giustizia che non viene mai tenuta conto. Il nostro paese aveva, adesso ha un po' redotto, aveva 90 miliardi di debiti con le aziende. Ora Renzi ha detto che ha pagato tutto. A parte che doveva pagare tre mesi dopo che si era insediato e forse lì non ci aveva nemmeno lui. Ha detto che avrebbe pagato tutti i debiti a San Matteo, che era per uno sport un po' elettorale. Vespa, non massimamente, uno dei cittadini, gli ha costruito e ha detto signor Renzi, mancano 30 miliardi. No, no, ho pagato tutto, ha detto lui. No, no, mancano 30 miliardi. Effettivamente il ministro del Tesoro ha detto che mancano 30 miliardi. Allora come fa uno Stato che è sanzionato dalla comunità europea come peggiore pagatore di tutta Europa? Come fa uno Stato a pretendere che le aziende fare? Questo noi chiediamo. Quindi, noi abbiamo detto, e vi annuncio una grandissima, una seconda vittoria per noi di 5 Stelle. Va bene? Non riesci a pagare tutto. Possiamo anche capirlo. Però, signor mio, chi è avanti dei credit per la pubblica amministrazione e gli arriva una cartella per l'Italia, in qualche modo sospendiamola. Perché molte aziende sono fallite perché gli arrivavano delle cartelle di liquidarie ma dovevano, ma non riuscivano a pagarle proprio perché avevano dei crediti verso la pubblica amministrazione. Io mi chiedo, se questa legge, diventata legge grazie al 95 Stelle, fosse stata approvata da alcuni professori dei saloni di Dimonti, Letta, eccetera, forse qualche azienda non avrebbe chiuso nel migliore delle ipotesi. Anche perché, in qualche caso, per qualche imponitore finita anche il peggio. Ora, ecco quando ci dicono voi dite qua che non siete preparati. Non è vero. Noi le idee le abbiamo ben chiare. Io quando vado in giro per gli imponitori mi chiedono sempre finanziamenti. quando arrivano i finanziamenti per questo settore. I finanziamenti hanno fatto uno studio che funzionano soltanto sedati in un altro settore. Se io questo non lo vendo, ma finanzio le aziende che lo produttono, io questo non lo vendo. C'è quanto? Allora hanno fatto uno studio che sui 35 miliardi di finanziamenti che ha letto alla comunità europea 10 di questi sono improduttivi. Cioè non vengono gestiti, non vengono ritirati, non servono da nulla. E tutti, l'azienda stessa, un buon fiume brutta stessa, un pietro cinque stelle, insieme ci siamo seduti e puntati e hanno detto cosa facciamo con questi finanziamenti che non vengono da finanziamenti? Togliendoci il pira, togliendoci i tassi, detto fatto, e speriamo di arrivare i fiammi di commissioni di finanza. Perché? Forse perché tutti avevano detto aboliamo l'Iraq in campagna elettorale. Quanti governi dicono noi siamo contro il big economy? Nessuno. Nessuno. Però, ora, noi li vogliamo davvero alla prova dei fatti. Perché non viene capitalizzato per la legge? Perché? Allora, se, ecco, chiudo, se, chiudo come un'ultima cosa. A me piace parlare molto di turismo. In Veneto la prima regione italiana è il settore turismo. Come, per esempio, in Val, in Venezia, in Campania, in Campania, in Levento, in Levento, ed è la prima regione in Italia. L'Italia, purtroppo, è passata come primo posto nel 2008, nel 2005, nel 2008, è passata dal centesimo posto. anche, anche, anche come, come, motivi, anche per la giuda gestione della politica, anche per la corruzione, anche per il cattivo sfruttamento del territorio. Sfruttare il polibus drive di Shanghai, lo facciamo domani mattina in qualsiasi parte del mondo. In Medi Italy, frutto di generazioni, i nostri prodotti, il nostro saper lavorare la pelle, il materiale, la ceramica, eccetera, eccetera. Quindi, sono quei investimenti che durano da generazioni in generazione. Non è la stessa cosa, quando vi parlano di produttività. Vogliamo investire su un'infrastruttura, dove siamo carenti, sanno il 63 siamo posto al mondo. Infrastruttura, fibra, ottica, internet veloce per tutti. In alcuni Stati europei, dove c'è la fibra ottica è praticamente tutta cardarca, c'è il maggior tasso di sviluppo di start-up perché la gente, i grandi gruppi nazionali, vanno a investire l'anno, perché ci sono intanto veloce. In quegli Stati la protezione è ridotta all'orso. Il turismo, dove ci lavorano due persone su dieci, più l'agroalimentare, più l'information per la logica, quindi la internet, web, applicazioni, può portare da un euro investito in cinque anni non può carico da 2,5 fino a 4 euro di trattore. Chiaro che sarà un'infrastruttura. Andate, e chiudo con una battuta, andate, andate sul sito della promozione del sito dell'Irlanda e digitate a Irlanda e in Docomia. Io non me ne guardo male, l'Irlanda ha quattro sassi e tre pecore, vedo via, del rispetto al patrimonio di questo. Abbiamo noi. In questo sito vi viene voglia di andare in Irlanda. Andate su www.italia.it che è il suo fratello, costato 35 milioni di euro, mai funzionato, vi viene voglia di andare in Irlanda. Grazie. Ok, questo funziona? Funziona, sì. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, io ringrazio Mattia che mi ha dato l'assist per iniziare con il mio intervento. Io sono qui per chi mi chiede di parlare a tutti quanti voi e anche a chi in questo momento non ci ascolta per dare una visione. Abbiamo visto cosa stiamo facendo, cosa stanno facendo in Parlamento, delle cose estremamente concrete, delle risposte estremamente concrete. Però, com'è la nostra visione? è giusto dare delle risposte immediate, però, noi oggi stiamo facendo una campagna elettorale, una campagna elettorale per capire e decidere quale sarà il vento del 2020. Perché oggi si decide chi governerà, quale sarà l'indirizzo di governo per i prossimi cinque anni. qual è la visione che noi abbiamo da qui al 2020? Quando tutto il mondo sta correndo a velocità sempre maggiore, sempre maggiore, sempre maggiore, noi in che direzione stiamo prendendo e dove siamo adesso? Allora, io parto dai dati oggettivi che sono sempre la cosa migliore. Parto dai dati oggettivi e raccolgo appunto l'invito sulla banda d'aria, sulle infrastrutture. c'è un grande parlare di infrastrutture, infrastrutture. Noi come siamo messi? Allora, io vi posso dire che l'Italia, per banda larga, per l'appunto, in una classifica mondiale, è al 98esimo posto. Ma cosa vuol dire il 98esimo posto? Allora, io vi posso dire che siamo dietro la Grecia, che notoriamente è un'economia di esplosione, però possiamo stare tranquilli perché il Kenya è subito dietro di noi. Quindi, comunque, siamo messi bene. Allora, bisogna capire qual è il modello economico verso cui noi stiamo andando e cosa sta succedendo nel mondo. Penso che tutti i presenti qua in sala avranno avuto a che fare almeno una volta nella vita con un urlino fotografico o un urlino fotografico della Kodak, per esempio, una multinazionale da 120.000 dipendenti era arrivata all'apice. Avete mai visto un urlino fotografico della Kodak ultimamente? perché la Kodak nel 2012 è saltata. Perché è saltata, secondo loro? Perché non ha saputo cogliere il cambiamento del mercato. Non è riuscita a interpretare qual'era la metamorfose velocissima che stava succedendo e nonostante fosse una mega multinazionale non è riuscita a stare a passo per i tempi. Dall'altra parte c'è una piccola aziendina con 13 dipendenti 13 sempre nel 2012 è stata acquisita da Facebook per un miliardo di dollari. Nessuno la conosceva. Si chiama Instagram. Allora, è qui che si apre la forbice del mercato. Qual è il modello che noi stiamo andando a seguire come modello veneto? Se vogliamo pensare di rimanere ancorati a quello che è stata sicuramente la grandezza come dicevi tu per tantissimi anni purtroppo le cose cambiano a velocità subassonica al di là di quella che è la nostra concezione e dobbiamo essere in grado con le infrastrutture per riuscire a rimanere attualizzati. Allora, oggi ci parlano di grandi opere ma, piano, cosa sono queste grandi opere? le grandi opere in questo momento sono il TAV la piede montana sono delle queste strutture queste lingue di cemento enormi che attraversano il nostro territorio ma a chi servono veramente queste opere? Queste opere che costano 5 miliardi di euro parlo del tratto Verona-Brescia 5 miliardi di euro 5 miliardi di euro sono soldi però alla fine pronto? si però alla fine cosa è successo con tutti questi soldi li abbiamo visti anche noi sono stati utilissimi al Ministro Lupi a ottenere Rodex a fare tutto quello che è servito abbiamo visto ci hanno regalato purtroppo ai noi arresti anzi di 10 in 10 ormai perdiamo il conto ma qual è il ritorno effettivo sul territorio? purtroppo il ritorno effettivo sul territorio è minimo perché vediamo che sono i progetti parliamo di lotti di progettazione che sono fermi dal 1991 ma se la coda che nel 2012 940 mila dipendenti è saltata un progetto del 1991 dal valore di 5 miliardi di euro dove ci sta apportando? allora la mia idea quella condivisa però ma non è la mia idea di altro non non mi permetto di di avere io queste grandi idee ci sono dei grandissimi economisti di fama mondiale che tracciano delle strade non so se avete mai sentito parlare che questa è la strada che a me piacerebbe poter seguire proprio andare al vento da qui al 2020 avete non so se avete mai sentito parlare che un grande economista si chiama Rifkin parla della terza rivoluzione industriale e la stiamo vivendo oggi in questi giorni ma che cos'è la terza rivoluzione industriale? parla di di come si fa impresa da qui e come si farà appunto fino a 2020 la sua visione è proprio da qui da 5 anni 2020 e 2025 mi dice il modello della grande mega industria del grande mega affalto è un modello noto perché è noto? perché quello che viaggia in questo momento sono le informazioni avete mai sentito parlare di questa di questo grande tema così più data le chiamano queste informazioni sono stati prodotti negli ultimi due anni più informazioni sono archiviate per il resto della storia umana questi sono i dati che abbiamo e allora chi saprà gestire questi dati riuscirà ad emergere ma cosa sono i dati? i dati sono cultura allora piuttosto che desertificare 300 ettari di Lugana a Verona per avere un treno che ci mette 5 minuti in meno tra Verona e Vicenza noi possiamo avere la possibilità di esportare le nostre idee i nostri cervelli quello che ci rende grandi nel mondo possiamo vendere offrirlo a chiunque ed è lì la nostra vera capacità di fare imprezza Rifkin chiama una nuova figura lo chiama il prosumer che è un termine inglese che sta a metà strada tra producer e consumer cosa vuol dire? vuol dire che uno si pone a metà strada tra produttore e consumatore tutti noi in questo momento siamo a metà strada tra produttore e consumatore se ci pensate quando lo scrivete in Facebook quando usate Wikipedia quando fate un video col cellulare lo condividete finiscono poi in internet vengono ripresi dei giornali è una lenta ma veloce evoluzione che sta subendo che sta subendo l'economia bene questo è il modo per far viaggiare le informazioni e le idee noi sappiamo che un euro speso in cultura non lo dico io la no è una ricerca della European House esposta dalla Rosetti Forum dice che un euro speso in cultura ha un ritorno di 2,49 euro allora è questa la nostra grandezza avere la possibilità nei prossimi 5 anni di avere le infrastrutture quelle che servono per fare impresa ma quindi quali sono queste infrastrutture? io non ho dubbi io non ho dubbi sono informazioni che devono far viaggiare le idee la cultura non farmi risparmiare 5 minuti a me sono concesso che l'orario in Italia siano rispettati ma a chi servono allora torniamo la nostra domanda iniziale a chi servono questi apparti? servono a noi che siamo in questa stanza che abbiamo la nostra eccellenza la nostra cultura e dobbiamo asportarli in tutto il mondo o servono a chi fa queste grandi opere? perché questo è il problema a chi servono veramente le cose ed è questo torniamo al nostro punto iniziale a cosa serve la politica a cosa serve le istituzioni a cosa serve la nostra presenza qua oggi che c'è poco da dire noi abbiamo fatto una scelta di non fidarci più di queste persone di non fidarci più di chi aveva queste grandi idee che avrebbe cambiato l'Italia che ci avrebbe portato in alto e allora io ho deciso di metterci nel gioco per primi di rimboccarci le maniche e di capire che se non erano gli altri tra le cose perché non le hanno fatte oltre a non averle fatte ci hanno anche portato dove siamo adesso regalandoci dispiacere ogni giorno allora adesso è il momento nostro ma non nostro di chi è servito qua adesso ma di tutte le persone presenti in questa sala poi però bisogna essere anche estremamente concreti come far ripartire l'economia del Veneto l'economia del Veneto riparte quindi non vuol dire essere contraria alle grandi opere tucur punto fine basta abbiamo abbiamo un'edilizia dove dati dati certi dati del Cresme che è un ente proprio di studio di di tutte quelle che sono i sondaggi e tutti gli studi relativi all'architetti all'edilizia mi dice che i soldi meglio spesi in questo momento in edilizia sono soldi nella reconversione energetica anche nella bioedilizia questi sono i temi del futuro perché come dicevo giustamente prima mattina non c'è bisogno di andare su Marte a vedere come costruiscono le case basta andare a pochi chilometri da qua e capire che mantenere territorio e sviluppare quello che abbiamo a recuperare questi milioni di metri cubi di appartamenti vuoti dappertutto che abbiamo iniziamo a mettere a posto questi invece ad andare a fare tutte le metri azioni per tirar fuori altra energia per versare questa energia in un bicchiere bucato una casa che ha poco coefficiente energetico in verità è un bicchiere bucato noi aumentiamo l'energia dentro una casa che ha le finestre aperte in verità la iniziamo a metà posto le case questo vuol dire mettere in moto l'economia veneta tutta l'economia l'edilizia veneta può ripartire da questo e questa è la direzione che io voglio prenda il vento questa è la direzione che noi dobbiamo prendere quindi abbiamo detto infrastrutture prima di tutto cultura e incentivi per questo genere di impresa non per i grandi appalti purtroppo abbiamo visto sono sempre riferiti a un ristretto cerchio di aziende che ne fanno parte non riescono a essere ben distribuite sul territorio e allora qua arriviamo al microcredito perché tutti questi discorsi come sono collegati al microcredito perché il microcredito è esattamente questo è la possibilità per ognuno di noi all'interno di questa stanza di o dare una casa alla propria impresa visada o partire con una nuova impresa partire con una nuova impresa quindi e qui ricollego il concetto della terza rivoluzione industriale di tanti piccoli imprenditori che con le loro grandi idee e con le infrastrutture giuste possono esportare queste idee in giro tra tutto il mondo quindi possono esportare le idee di tutto il mondo allora torniamo a noi il microcredito 25.000 euro queste sono cose che già ci sono adesso poi lo affronteremo nel dettaglio ma questa possibilità è la linfa vitale in questo momento non servono queste operazioni appunto come l'incentivo alle assunzioni però io se non riesco a vendere il mio prodotto perché non faccio innovazione perché non c'è stato un investimento in innovazione questo non aumenterà il mio fatturato non è che se io in questo momento non ho 20 dipendenti assumo 50 dipendenti quindi mi aumenterò il fatturato e no il prodotto è sempre quello l'innovazione non riesco a farla in realtà posso assumere anche 500 persone fa molto orgone ma non mi serve molto a livello aziendale ora torniamo alla domanda iniziale come sarà il Veneto le 2.000 euro il Veneto nel 2020 sarà è la mia visione e spero è la visione di tutti noi di una visione condivisa sarà il Veneto dove i cervelli arrivano e non partono dove la persona è al centro e non le strutture o gli alfatti dove l'immigrazione sarà magari una scelta ma non sarà un obbligo perché l'Evento del 2020 non saremmo più noi e parlo della mia generazione in particolare a dover essere costretti a migrare ma sarà chi ci ha portato in questa situazione a essere costretti a doverlo fare per fare spiegare la mia mi ha spiegato che giorni fa venendo in mattina atterrando a Trieste e sono stato ad Udile a Pordenone, ieri mattina siamo stati passando il Grappa e il Jacopo poi siamo stati a San Polifacio ieri pomeriggi e di sera sono stato a Piedana stamattina a Curtatone Mantua e adesso sono qui o in continuo è finita domani mattina andiamo al Vinitali a salutare gli imprenditori che ci rendono principalmente orgogliosi di questo paese, le nostre eccellenze nel mondo, una fiera che cammina sulle sue gambe sulle gambe delle eccellenze che non ha bisogno di cemento, a differenza delle rispo di Milano che non solo c'è costato 2 miliardi di euro come soldi pubblici ma c'è costato anche diversi miliardi di euro intangenti e la beffa è che è solo il 18% di realizzazione a 39 giorni dall'inizio molte volte saranno consegnate tra 7 mesi quando l'esposa l'ha già finito tant'è che hanno dovuto fare un bando pubblico di un milione di euro per comprare dei cartelli per coprire le aree che non riusciranno a costruire sono delle grandi serigrafie su cui è disegnata la cosa che dovevano costruire come diceva Crozza ieri sera arrivi lì in giù degli occhi immagini quello che dovevano costruire noi oggi siamo qui per spiegare un'idea di paese e di regione come diceva Jacopo premettiamo una volta mi ricordo anche gli imprenditori presenti se noi avessimo potuto decidere dal governo centrale dello Stato cosa tagliare e cosa usare questi soldi state certi che avranno tagliato a tutti i politici degli stipendi non solo il Movimento 5 Stelle e 10 milioni che sarebbero diventati circa 7-8 miliardi di euro a conti fatti le avremo messi in meno tasse così che tutti possano partire dallo stesso punto di partenza e poi uno si gioca la sua partita sul mercato con i prodotti che produce e con quello che ha di capacità personale non c'è stato possibile un medico c'è un medico c'è una persona che non si sente bene stavo dicendo una cosa che noi non abbiamo avuto la possibilità di farlo con una legge ma non per questo ci siamo trincerati dietro la scusa che hanno utilizzato nei primi 20 anni che è quella è bisogna fare una legge per tagliare gli stipendi ai politici bisogna fare una legge per eliminare le auto blu bisogna fare una legge per eliminare i voli di Stato io sono d'accordo a tagliarli però finché non c'è la legge mi riprendo e li uso ed è questo che ci ha fatto arrabbiare un po' tutti che ha fatto nascere questo movimento la continua presa in giro perché tutti quanti siamo le persone che sono qui anche quelli che non votano il Movimento 5 Stelle che non credono che sia un progetto credibile perché non hanno la sua idea però tutti quanti siamo quella generazione di cittadini vedevano in tv alcuni politici parlare in talk nei tg e dicevano ma la soluzione a questo problema di cui stanno parlando c'è è semplice perché prendono sempre la strada più difficile e quella più dispendiosa di risorse io sono quello che pensava dopo aver visto gli ennesimi le ennesime prese in giro in tv che se uno mi diceva si sono d'accordo a tagliarmi lo stipendio non aveva bisogno di una legge per farlo e se lo poteva tagliare quando voleva quello che facciamo noi oggi io sono qui a spiegarvi un meccanismo microcredito 5 stelle che è un'idea dei paesi un'idea dei paesi che passa per tre parole la credibilità la serietà e l'aiuto dei più deboli siamo stati tra i primi a stogare i luoghi comuni sulle imprese vi ricordate quando proprio nel nord d'Italia Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio durante lo tsunami tour del 2013 vennero a visitare le piccole e medie imprese quelli che erano trattati fino ad allora come gli evasori che erano trattati come i ricchi che non meritavano nessun aiuto e che nel giro di un paio d'anni ci siamo ritrovati alla canna del gas nel vero senso della parola ebbene credibilità perché siamo quella forza politica che vi aveva detto una cosa ve l'aveva promessa e l'abbiamo fatta il giorno dopo le elezioni tagliandoci un po' che mi ha questo che mi ha in questi giorni il vantaggio di notare il Movimento 5 Stelle ora vi da parlo a chi magari non è ancora convinto è che il giorno dopo le elezioni hai sicuramente una forza politica che inizia a realizzare il programma elettorale non so che è una cosa ovvia ma le cose ovvie e normali in questo paese sono rivoluzionari proprio perché siamo in un paese totalmente all'incontrario un paese totalmente anormale appena siamo arrivati in Parlamento abbiamo rinunciato al 42 milioni di euro di ricorsi elettorali e abbiamo iniziato a tagliare i nostri stipendi a dipensarli e ben oltre perché pensate che chi ricopre una carica istituzionale come me o Roberto Figo presidente della commissione di Gilanzarai abbiamo anche un altro stipendio pensate che quando siamo arrivati alla Camera dei Deputati abbiamo inventato il modulo per rinunciare agli stipendi aggiuntivi delle cariche istituzionali perché il funzionario ci disse che è una carica istituzionali che è una carica istituzionali di come si facesse tant'è vero che Domenico addirittura chiede un parere dell'avvocatura perché l'avvocatura sosteneva che fosse un'idenità irrinunciabile in questo paese è più difficile restituire i soldi che l'urbanio è una carica istituzionali quindi dicevo credibilità serietà dello strumento noi abbiamo ideato uno strumento prima di tutto de-responsabilizzandoci non abbiamo nessuna intenzione di gestire questi fondi e lo voglio dire noi non abbiamo nessun potere di direzionare questi fondi in una direzione o in un'altra semplicemente ogni mese entra sullo stipendio del vicepresidente della Camera dipende dai mesi 16.000 17.000 euro 20.000 dipende dai mesi ogni mese non ci sono voci nuove ma quello che facciamo è rinunciare a tutti i rimborsi aggiuntivi in identità aggiuntive dimezzarsi in identità e prendere tutti i rimborsi che non utilizziamo e che non rendimentiamo a voi e metterli su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che era un fondo disattivato quando siamo arrivati noi per il microcredito alle piccole imprese italiane come funziona? in due anni noi abbiamo messo insieme 10 milioni di euro in una media di 140 parlamentari i parlamentari 20 sono quelli che hanno restituito di più di tutti i parlamentari per il microcredito per il microcredito la crisi economica dovevamo abbatterlo potevamo pensare di sparare ovunque oppure di colpire solo in un posto abbiamo iniziato dalle categorie che hanno più difficoltà sono i professionisti pensate che in questo momento la disoccupazione in questo paese è al 13% ma se dagli ordini professionali si disiscrivessero tutti quelli che guadagnano meno della soglia di povertà di questo paese la disoccupazione in questo paese avrebbe 20% e non lo dico io lo dicono tutti gli ordini professionali d'Italia che hanno commissionato questo studio perché i professionisti sono i nuovi poveri il miraggio dell'avvocato del commercialista del consulente del lavoro era un miraggio già allora figuriamoci oggi ma questo attiene anche ai problemi del sistema universitario vi stavo dicendo questo professionisti piccole imprese massimo 5 dipendenti piccole cooperative massimo 10 dipendenti nessuna garanzia reale perché? perché noi sappiamo che questa è la categoria che in banca gli eridero dietro a queste categorie quando vanno a chiedere prestiti noi abbiamo iniziato da questi qua 10 milioni di euro in due anni e ci permetteranno di aiutare 2000 soggetti imprese o studi di professionisti o piccole cooperative 2000 soggetti nei primi giorni di aprile e un soggetto un'impresa al giorno per oltre 10 anni che voglia partire o che voglia continuare a svilupparsi in innovazione come diceva Marco Coberti prima questo è un progetto di cui noi siamo orgogliosi non crediamo che risolva i problemi dell'Italia sarei un disonesto se mi dicessi questo ma sappiamo bene che se fossimo stati al governo e se andremo al governo di questa regione 10 milioni di euro diventerebbero 7-8 miliardi di euro perché noi abbiamo la credibilità per dirvi che se andiamo al governo tagliamo tutti gli sprechi e li direzioniamo nella scelta giusta e questo e questo è un po' che non è stato tutti hanno trovato i marchi termini io lo dico sempre è una regola di marketing quella che utilizzano questi signori prendono le proposte che funzionano di più le copiano cambiando il marchio magari facendolo più nuovo nel 2013 eravamo noi la notà nel 2014 il PD ha dovuto si durare retta se no all'Europea non avremmo ascoltato e ci mette il nuovo marchio ma del vecchio sistema Matteo Renzi poi arriva il nuovo marchio del vecchio sistema visto che fa politica da quando avevo 6 anni Salvini adesso arriva un altro nuovo marchio che è Landini ma di un sindacato che esiste da una vita qui e che non ha non è il responsabile nella crisi industriale di questo paese perché se in questo paese si sono vendute le teste dei lavoratori è colpa anche dei sindacati e tutti i sindacati di questo paese ma noi non vogliamo fare la politica del marketing vogliamo semplicemente dirvi che tutti vi diranno le stesse cose ma ci vuole credibilità per dirle credibilità significa che devi avere di fronte con la forza politica che ha fatto quello che aveva detto altrimenti non c'è credibilità ieri sera ieri abbiamo letto le dichiarazioni incidentalmente di una vostra candidata alla presidenza della regione che non mi va neanche di nominare che diceva che candidano persone che devono dichiarare di essere incensurate di non avere massimo due mandati sono le nostre regole però per carità mi fa piacere il problema è che quella persona che lo dice è il partito che nella mia regione in Campania ha candidato Vincenzo De Luca condannato per abuso d'ufficio che per la Severino non potrà fare neanche il presidente di regione sono arrivati al paradosso che pur di candidarsi candidano a presidente di regione uno che quella carica non la può ricoprire questo tanto per raccontarci la credibilità che cosa significa da noi Vincenzo De Luca o tutti i sottosegretari che sono indagati in questo momento nel governo non sarebbero neanche candidati perché la nostra regola è ferrea su quelle che sono le persone inquisite nei processi penali e anche in alcuni processi per le attività e nei processi per le attività io quello che vi sto dicendo ve lo dico perché il microcredito tiene dentro questi valori noi potremo andare a casa dei cittadini veneti a dire ad ognuno che non solo abbiamo fatto quello che avevano detto e giustamente i cittadini dicono vabbè la mia vita non cambia a quelli che hanno figli che si sono appena laureati con un'idea di impresa per esempio c'è un imprenditore pugliese che adesso ha fatto richiesta per il microcredito per aprire un piccolo allevamento di apri ci sono dei giovani agricoltori che hanno fatto una cooperativa di lavoro di meno di 10 dipendenti che adesso nel polizio hanno fatto richiesta per il microcredito questi sono i mestieri del futuro e oggi essere agricoltore significa essere quasi un tecnico informatico per la tecnica che ha raggiunto l'agricoltura e per quanto è importante e questo vale per tutte le imprese ora potremmo andare a spiegare a persone che hanno alcuna difficoltà in tutte le famiglie c'è il lavoro che c'è un'opportunità io ho fatto il giro di queste città e ho visto una società che aspetta solo di essere incoraggiata c'è un mondo lì fuori di piccole idee che aspettano solo un'opportunità noi con questo contributo vogliamo dare un'opportunità a quelle piccole idee per partire un'opportunità che mai nessuno a me che ho 28 anni ma anche a molti di voi è mai stata data uno Stato che prima ancora che partiti ti chiedeva le tasse prima ancora che partiti con l'impresa ti chiede di anticipare le tasse non sai neanche quanto guadagnerai e già ti chiedi di anticiparle e prima ancora che parti ti chiede un atto notarile di diverse migliaia di euro tra l'altro parentesi grazie a me è stato un emendamento in realtà grazie ai correghi di Mattia Fandinati e a Mattia Fandinati in Commissione di Attività Produttive che per le start-up innovative non ci sarà più bisogno di atti notarili per partire qual è l'obiettivo che ci vogliamo col microcredit vi ho detto 2000 imprese sono ad aprile una giorno per 10 anni speriamo di incoraggiare quelle parti del paese che in questo momento o soffrono oppure che hanno bisogno di partire in settori che sono all'avanguardia anche se in tutto il resto del mondo sono già una realtà ricordiamoci che Berlino ha creato la Silicon Valley d'Europa in uno dei suoi quartieri con i migliori ingegneri italiani e voi avete pagato con le vostre tasse la formazione di quegli ingegneri che stanno arricchendo un altro paese e su questo io mi sento di dire che l'obiettivo minimo per il Veneto è aiutare 200 imprese nei primi giorni di aprile e almeno una al mese per i prossimi 10 anni ed è questo quello che ci sentiamo di assicurare facendo acconti fatti per le statistiche che abbiamo fatto e per la richiesta le richieste che ci sono arrivate nei primi tempi non sono tutto ma sono tutto di partenza importantissimo per cominciare a incoraggiare questo territorio è ovvio che alle prossime elezioni regionali con lo stesso metodo possiamo continuare ad aiutare le imprese del Veneto in che senso? quando i giornalisti mi chiedono mi fa una previsione sulle sette regioni io dico spero che avremo la prima regione governata dal Movimento 5 Stelle abbiamo 10 comuni che vanno benissimo magari su sette regioni la prima del Movimento 5 Stelle quale sarà? non lo so i sondaggi che dicono non me ne frega visto che il bene e il male non ne hanno mai sempre una io dico sempre una cosa ognuno dei nostri che entra è uno in meno dei loro che costa la metà ai cittadini i metodi di ristruzione in ogni regione noi abbiamo 62 consiglieri regionali sono diversi però vi posso assicurare che i consiglieri i consiglieri regionali hanno un patrimonio di stipendi che possono restituire e mettere sui fondi per come lo decideranno anche in Veneto solo in Abruzzo 5 consiglieri comunali in 6 dì si hanno messi insieme 150.000 euro di restituzioni e non è che queste persone fanno la fame hanno il loro dignito su stipendio che gli permette di vivere e di preoccuparsi anche di come spendere i soldi ogni mese perché se tu dimentichi come si spendono i soldi perché ne hai così tanti dimentichi i problemi che hai lì fuori come funziona il sito del microcredito www.microcredito5stelle.it su quel sito sono indicati tre step partiamo dal presupposto che è il fondo del ministero dello sviluppo economico e deve seguire le regole che abbiamo detto il primo step che noi abbiamo indicato è uno step di assistenza a chi è interessato sapevamo che avremmo avuto migliaia di richieste in tre ore 150.000 contatti 10.000 iscritti alla main interest questo vi fa capire la potenza della crisi in questo paese nonostante ci dicano che va tutto bene bene questi contatti noi avevamo bisogno di un'istanza sul territorio dove si potessero riferire dove potessero andare abbiamo contattato i consulenti del lavoro la cui ordine si è prestato gratuitamente a dare disponibilità di assistenza alle persone interessate in alcune regioni sta funzionando bene in altre ci sono alcuni consulenti del lavoro che non sono disponibili ma è secondare noi domani mattina pubblichiamo un elenco con tutti i consulenti disponibili per la mia regione ma al di là di questo potete andare anche dal vostro professionista di fiducia sostanzialmente si tratta di scaricare un piccolo foglio a 4 che c'è sul sito microcredito 5 step nel primo step cioè clicca qui è la circolare che spiega tutti i dettagli del fondo e andare da un professionista per dirgli guarda che cosa devo preparare in vista del secondo step che cosa è il secondo step è un click date abbiamo ottenuto che la domanda si notri online poi vi spiego perché attraverso il sito del ministero che dovrebbe essere una cosa normale però anche qui è un traguardo riuscire a ottenere un ministero faccio fare le domande online ai cittadini e non ancora in carta bollata per Franco Bollo dai collare ebbene quel click day servirà a prenotare le risorse tutti coloro che sono interessati agli inizi di aprile o metà aprile stiamo parlando dai primi giorni da subito dopo Pasqua al 10-15 aprile sul ministero saranno disponibili i moduli per prenotare le risorse che cosa significa? compilare una semplice autocertificazione in cui si dichiara di essere titolare di un'impresa o di voler riaprire una e dopo di che oppure essere professionisti quindi avere uno studio di professionisti imprese individuali ci sono tutte le categorie in quel foglio A4 che vi ho detto e che è scaricabile e si fa la domanda quando si fa la domanda il sito restituisce un voucher una ricevuta con la quale si può andare alle poste o in banca e inoltrare la domanda la prenotazione delle risorse avviene in base a quando ci si prenota sul sito internet e si compila la domanda essendo senza garanzie reali è chiaro che è meglio compilarla il prima possibile ma siccome questo è un fondo di rotazione dopo il primo mese inizieranno le restituzioni delle rate del microcredito che andranno ad altre imprese ed è per questo che vi ho detto un'impresa al giorno per oltre 10 anni in realtà potrebbe funzionare all'infinito il punto sostanziale è che si basa sulla mancanza di garanzie reali e su un tasso che è massimo 8% ma non vi fate fregar ci sono filiali che stanno già garantendoci che presteranno al 2 al 3 questo perché noi non facciamo beneficenza ve lo voglio dire col cuore non vogliamo instillare la politica delle risorse pubbliche date a pioggia senza creare lo spirito di impresa lo spirito di impresa si basa sul fatto che c'è un prestito ma c'è una restituzione perché tu devi fare utili devi investirli quei soldi e devi farli rientrare la cosa il terzo step è appunto quello di legarsi a uno sportello di un intermediario come vi ho detto e iniziare il ritiro delle somme le somme saranno finanziate nei 6 giorni successivi alla domanda perché non c'è da verificare null'altro se non l'idea progettuale ovviamente parliamoci chiaro l'80% del prestito non lo fa la banca è garantito dal fondo nostro quindi la banca o le poste avranno tutto l'interesse a farlo il punto qual è che non è immaginabile che si presenta uno con l'idea dell'impresa di tubi catodici per televisioni e gliela finanziare perché è una follia è già fallito questo settore è chiaro che invece può una persona che ha già un'impresa ad esempio finanziare un progetto di innovazione interno ora stiamo parlando del futuro ma noi abbiamo già un laboratorio che sta funzionando di questo sistema che è la Sicilia dove i nostri consiglieri regionali che sono stati eletti nel 2012 post attraversamento al moto di Peppe dello Stretto se vi ricordate hanno messo insieme in due anni e qualcosa hanno messo insieme un milione e mezzo di euro con i quali hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi il prestito anche lì è 25 mila euro ma fino a 35 mila euro se l'idea è valida e se funziona se è un'idea finanziabile e se sei un bravo pagliatore vieni premiato puoi avere un altro finanziamento da 25 mila euro in Sicilia 32 sono state le start up a partire con i microcrediti del Movimento 5 Stelle e poi non so quanti di voi l'avranno venuta io mai la birra Messina aveva una storia importante in Sicilia con un millificio importante che è fallito qualche anno fa che cosa hanno fatto i dipendenti si sono messi insieme in una cooperativa e hanno fatto richiesta nel nostro microcredito con i 35 mila euro di microcredito che gli abbiamo dato loro hanno ricapitalizzato hanno avuto accesso ad un altro finanziamento con il quale la birra Messina torna a produrre in questo mese in Sicilia quindi se volete anche esiste un laboratorio di prova che è la Sicilia sul quale le cose funzionano già quindi stiamo seguendo quel meccanismo perché è un meccanismo che ci garantisce la riuscita del progetto non escludo che ci possano essere delle disfunzioni abbiamo saputo anche che addirittura ci sono dei soggetti che stanno chiamando persone interessate e chiedono soldi in cambio dell'accesso al microcredito del momento 5 Stelle che abbiamo già denunciato dalla procura della Repubblica sappiate che è una procedura non onerosa tant'è vero che abbiamo chiesto ai consulenti del lavoro di tutta Italia di prestarsi gratuitamente giustamente c'è qualcuno che non lo vuole fare però abbiamo rassicurazioni da domani mattina che in ogni regione ci sono consulenti del lavoro disponibili in ogni caso c'è la possibilità di rivolgersi ad un commercialista di fiducia un consulente di lavoro di fiducia un avvocato di fiducia si tratta di analizzare le carte ad essere pronti in vista del big day detto questo vorrei concludere dicendovi semplicemente un paio di cose quello che abbiamo di fronte in Veneto come in altre sette regioni d'Italia e 300 comuni italiani è la sfida di tutti gli anni io lo so qui votiamo ogni 5 mesi in questo paese non che votiamo ogni 5 anni ogni 6 mesi c'è un'elezione i cittadini sono sempre chiamati a votare e vengono tanti candidati che dicono tutti le stesse cose perché i programmi dopo il 2013 hanno iniziato il programma a copiaggio di tutti adesso tutti parlano di banda larga tutti parlano di energia rinnovabile tutti parlano di onestà tutti parlano di onestà poi si ritrovano arrestati i membri dei loro partiti questo per dire una cosa lo dicevo ieri a un giornalista ma il Movimento 5 Stelle viene visto come la causa di tutti i mari ho detto guardate avete il sacro tanto diritto di considerarci la causa dei problemi d'Italia però mi dovete spiegare perché arrestano sempre gli altri e mai quelli del Movimento 5 Stelle tutti parlano di questi temi questi temi ma pochi realmente li mettono in pratica adesso noi in Veneto stiamo facendo un grandissimo sforzo che è quello di far conoscere le nostre idee i nostri programmi sulla scorta di quello che abbiamo già fatto io oggi vi ho raccontato del microreddito ma se andate a vedere nei comuni dove governiamo Equitalia già l'abbiamo cacciata sono comuni Equitalia free nei quali la discussione è coscienziosa cioè che significa che non puoi pensare che se un commerciante non riesci a pagare l'occupazione di solo pubblico di 100 euro oggi tu gliene possa chiedere come Equitalia tre mesi dopo 350 perché quello non ce ne aveva ieri 100 e non ne ha oggi 350 allora tu sei moroso va bene mi devi pagare però il compito della politica in questo paese è mettere in condizioni quella persona di pagare magari dilazionando la tassa e senza far maturare interessi usurari noi Equitalia la vogliamo abolire la vogliamo cacciare dalle regioni dove c'è ancora dai comuni dove c'è ancora e abbiamo la credibilità per dirvi questa cosa perché l'abbiamo già fatto nei comuni dove stiamo governando in queste ore in questi giorni si discute dello scadalo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti partiamo da un preso opposto Ercole in casa era un soggetto che stava lì da 25 anni a gestire i soldi delle vostre tasse quasi sempre in deroga al codice degli appalti perché siccome dicono che si va troppo a diretto in quelle opere opere inutili alla fine si fanno i commissariamenti e si fanno gli appalti diretti senza passare per regare la procura di Firenze che ha avverto questa grande inchiesta e ha arrestato questo Ercole in casa ha dimostrato che 10 miliardi delle tasse degli italiani anche dei cittadini europei perché una parte erano fondi europei sono andati in tangenti pensate che l'Imu in questo paese vale 8 miliardi di euro più della montagna di quello che pagate in tasi oggi perché l'Imu costa in tangenti ma possiamo mai pensare che questo Ercole in casa era il senior che riusciva a fregare tutti quanti senza farsi scoprire era una rete una rete che si fondava su che cosa? sull'amministrazione del potere al di là dei governi e al di là dei soggetti politici che c'erano nei ministeri nei nostri comuni funziona che la prima cosa che fanno i nostri sindaci è far ruotare i dirigenti cosa che poteva fare Renzi Letta Monti Lubi i suoi predecessori tutti i governi che si sono alternati al ministero delle infrastrutture e dei trasporti potevano disporre la ruotazione dei funzionari facendo così tu aumenti le probabilità che ti ritrovi una persona che quel potere provo a ministra da 25 anni oppure se è fuori in casa come avevamo detto noi otto mesi fa era una persona che si ritrovava 10 richieste addosso era l'ultima persona per fargli amministrare 40-50 miliardi di euro a volte allora che cosa fai? esiste uno strumento si chiama incarico di studio col quale tu dici guarda tu hai fatto 25 anni di colorata carriera hai detto mettiti a studiare non ti do più nessun incarico operativo perché abbiamo determinate ragioni per contartelo niente di tutto questo è stato fatto qualcuno dice Renzi non sapeva Cantone presidente dell'autorità di colluzione non sapeva non sapeva ma fino ad otto mesi fa ragioniamo per assurdo non lo sapeva ma otto mesi fa i nostri parlamentari Michele Dallocco e Alessandro Di Battista alla Camera dei Deputati hanno interrogato il ministro Lupi chiedendogli di rimuovere questo è ancora in calza e nessuno lo ha mai rimosso salvo poi dopo che scoppiano le inchieste vedete tutti questi soggetti politici come delle vergini che vanno sui giornali a dire ecco la soluzione a questo problema da domani si farà così questa è una presa per i fondelli otto mesi fa dovevate fare così dov'era l'autorità anticorruzione dallo scelizzo Raffaele Campone allora la credibilità significa questo noi lo facciamo perché conosciamo il problema del potere in questo paese il potere è tentatore l'alternanza la regola dei due mandati che dobbiamo rispettare tutti quanti noi seduti a questo tavolo per il quale dopo due mandati te ne vai a casa perché il mondo da cui vieni è il mondo in cui torni e se non l'hai migliorato sono problemi pure tuoi non solo di quelli che hai lasciato fuori dalle istituzioni e se ti fa la regola è un'altra cosa che vale anche per i dirigenti pubblici oltre agli stipendi i nostri sindaci i nostri futuri presidenti di regione si tagliano lo stipendio come faccio io come fa Mattia e queste persone che troviamo nelle pubbliche amministrazioni non il dipendente noi stiamo parlando dei dirigenti a volte messi con lo spoil system quindi senza concorso e poi stabilizzati altre volte vincitori di concorsi di un'epoca in cui i concorsi erano un terreno all'otto nel quale si vinceva solo chi aveva l'amico nella democrazia quest'anno quindi quelle persone lì per noi non solo devono votare ma guadagnano anche molto e a Livorno dove c'è il nostro sindaco Nogarin solo grazie a questo fatto che ha eletto il sindaco del Movimento 5 Stelle risparmieranno 5 milioni di euro perché ha deciso di dimezzare le indennità dei dirigenti comunali che tra l'altro per la legge prunetta molti di questi dirigenti sono persone che autocertificano i propri metti e quindi anche le proprie remunerazioni premiari cioè loro hanno dei bonus se sono produttivi che si autocertificano questa è stupenda questa cosa è una legge prunetta il cui nome far capire qual è la spietta ma detto questo vi voglio dire vi sto raccontando queste cose per dirvi quello che abbiamo fatto la credibilità con la quale oggi ne diciamo che se arriviamo in regione realizziamo un programma un programma di innovazione un programma che crea posti di lavoro un programma che crea nuove imprese ma che è in grado anche di convertire il tessuto il tessuto economico di questa regione noi non siamo conservatori che pensiamo che quello che esiste deve restare per forza così com'è congelato il mercato si evolve ma tu devi dare la possibilità a chi è nel mercato di potersi trasformare è a questo che serve lo Stato e allora cosa farà un presidente di regione del Veneto del Movimento 5 Stelle farà quello che vi ho appena raccontato e che è già stato fatto taglia gli strechi e li direziona verso le risorse giuste oggi siamo in un paradosso gli 80 euro potevano essere una cosa buona perché arrivavano nelle buste paga di persone che magari ne avevano bisogno nelle buste paga di padri che avevano figli disoccupati che ci pagavano la retta universitaria che secondo la vicenda facevano spesa per un mese va bene tutto quanto non mi interessa io non voglio criticare lo strumento io voglio criticare la presa in giro perché per coprire quegli 80 euro ha costituito l'Imu sui terreni agricoli hanno tagliato 8 miliardi di euro ai comuni e 4 alle regioni che significa meno servizi per i disabili e più tasse comunali in questo paese quindi 80 euro è uscito dalla finestra con gli interessi e rispetto a questo dall'altra parte abbiamo un governo che conferma una spesa di 12 miliardi di euro per i cagli a bombardieri F-35 12 miliardi di euro ricordatevi sempre gli 8 del Ligu 10 miliardi di taggetti 12 miliardi di F-35 50 miliardi del programma di manutenzione di questi aerei 9 milioni di euro tagliati alla lotta alla criminalità nella terra dei fuochi perché li dovevano mettere per la sicurezza dell'Expo 9 milioni altri 9 milioni che sono stati tagliati altri 10 milioni che sono stati tagliati a quelli che sono gli artigiani che volevano affiancarsi i giovani da formare 500 milioni di euro tagliati al sud Italia per la formazione di giovani che in questo momento ricordiamoci sempre il finanziamento può essere sicuramente uno strumento di cui si accusa ma se noi non ci togliamo dalle spalle se la vogliamo buttare proprio sui soldi se non ci togliamo dal carico del welfare statale i disoccupati e gli indigenti questo paese andrà sempre a rimorso degli altri paesi europei gli indigenti i disoccupati nuove generazioni di cittadini che in questo momento non si formano non cercano lavoro di cui ci sono dei record in alcune regioni sono persone che gravano sulla spesa statale perché ricordatevi sempre che sono a reddito zero e quindi hanno una serie di agevolazioni che poi in servizi sono discutibili per come li fornisce questo paese e comunque ci costano miliardi di euro e se noi non riusciamo a metterli a dargli un'opportunità e riuscire a crescere da soli nella propria vita professionale nella propria vita chissà imprenditoriale queste persone continueranno a pesare sulla spesa pubblica e ad affossare la spesa pubblica di questo paese allora dico tutto questo perché noi siamo convinti che questa rivoluzione gentile che stiamo portando avanti una rivoluzione che passa per le regole democratiche non per la sovversione è una rivoluzione a quanto semplice se andassimo al governo di una regione o al governo di un paese le cose che stiamo dicendo bastano 10 giorni per farle non lo dico da spavando perché quando hanno voluto 7 miliardi di euro alle panni ne hanno passate in una notte io voglio passare 10 miliardi di euro e 16 miliardi di euro e 16 miliardi di euro e 16 miliardi di euro e non posso fare in tre ore non è questo il problema lo dimostrano i fatti è la stessa cosa solo che manca la volontà politica da una parte avete uno che si chiama Tosi che non so neanche se il suo voto è quello della mamma però viene osannato come uno degli statisti di questo paese da un'altra parte avete questo Zaia che a me risulta sia stato ministro dei governi che ci hanno portato nelle fauci dell'Europa delle banche quell'Europa delle banche che ha massacrato i nostri imprenditori e li ha costretti anche al suicidio sappiamo bene che cosa sono i parametri di Basilea che non permettono neanche più i finanziamenti agli imprenditori e le banche continuano a prendere soldi dalla BCE e in base a quei parametri non erogano quei soldi che arrivano a Banca Centrale agli imprenditori italiani e dall'altra parte avete questa persona che tre anni fa era vice sindaco due anni fa era parlamentare italiano un anno fa è diventata parlamentare europeo adesso vuole fare il presidente di regione con la politica noi non siamo abituati a fare compasse potevamo scegliere per esempio di mettere uno più famoso di Jacopo Berti potevamo scegliere di prendere uno dei parlamentari che sicuramente conoscete di più del movimento queste le candidate dal presidente di regione avremmo ottenuto probabilmente un'impressione migliore all'inizio ma l'avremmo pagato perché avremmo tradito il mandato elettorale che ci aveva adicato c'è una persona che è eletta e una istituzione che è elettorale potete progettare solo l'anno perché i cinque anni non è che sono un'idea di costituzionalisti che quella mattina non sapevano cosa scrivere cinque anni una legislatura solo il tempo comulo per realizzare un programma elettorale se invece viviamo le istituzioni come un posto dove andare per passarci un anno a prenderci lo stipendio poi andarci a prendere un altro stipendio da un'altra parte da un'altra parte creiamo quello che si è creato negli ultimi vent'anni gente che sta là dentro da 25-30 anni che non si schioda da lì e che non ha più problemi per il suo consenso perché i voti ha imparato a farle con i soldi con lo scambio pleterare con i rapporti con i grandi lo scambio pleterare lo scambio pleterare ma tengo veramente a spiegarvi e con questo davvero concludo che il Movimento 5 Stelle è ben consapevole dei pellicoli di portare una persona un cittadino qualsiasi nelle istituzioni in quella vasca di squali piena di soldi e di clientele ed è per questo che ha delle regole le regole per le quali ti devi dimezzare lo stipendio non sono solo un fatto economico sono un fatto culturale devi avere contezza di cosa c'è lì fuori e se prendi 20.000 euro al mese te lo dimentichi allo stesso tempo la regola dei due mandati si basa sul fatto che devi toglierti dalla testa di fare il politico a vita perché per fare il politico a vita diventi un precario che ogni 5 anni deve rinnovare il suo contratto ed è disposto a fare di tutto per rinnovarlo anche scambiarsi voti con i gran mafiosi anche farsi corrompere per dare qualche appalto alle cooperative di comunità e liberazione alle cooperative rosse anche andare a patti col diavolo ed è per questo che attualmente il Parlamento blocca o affossa le due leggi più importanti di questo paese il voto di scambio politico mafioso e la legge anticorruzione bloccata da 800 giorni nella commissione lavoro o nella commissione giustizia nazionale non c'è una ragione noi dobbiamo sbloccare i rettici delle istituzioni e a domino serenamente avremo tutti dei vantaggi il problema dell'immigrazione in questo paese che è diventato un problema perché lo hanno fatto diventare tale è tale perché non lo si vuole risolvere e vi spiego perché se oggi andate a vedere chi gestisce la struttura emergenziale dei centri d'accoglienza sono le cooperative coinvolte negli scandali di mafia capitale e in altre inchieste giudiziali perché sono coinvolte? perché utilizzano i soldi dell'emergenza 50 euro emigrato 40 euro emigrato ma non erogano servizi in tal senso ora io un po' di diritto internazionale l'ho studiato ma non c'è bisogno di studiare diritto internazionale basta leggersi i trattati ci sono dei sudi bignani dei trattati che dicono che e le statistiche gli immigrati che arrivano in Italia solo il 10% a diritto d'asilo perché viene la regione in guerra il resto può essere benissimo rimpatriato perché le regioni sono in pace ma da questo punto di vista il problema è che se noi togliamo se loro tolgono il fenomeno migratorio si ferma il business nei mafia capitale in mafia capitale c'era un sms un'intercettazione di un sms in cui si auguravano più immigrati nel 2014 perché era più business sui campi rom e chi gli dà questi soldi? Gli dà la politica perché questi soldi sono frutto dei soldi che vengono da le strutture emergenziali del ministero dell'interno che oggi sono da fare ieri erano di persone del PD e l'altro ieri erano di persone della Lega che rispondeva al nome di Maronica ha dato 50 milioni di euro ai campi di Roma di Roma ricordiamoci che siamo perché questo è un paese senza memoria e vi racconto questo per dirvi che i problemi si risolvono se ci sono persone che li vogliono risolvere il giorno in cui avremo queste persone al governo e credo modestamente che ce le avete davanti che vi abbiamo dimostrato che non abbiamo mai cercato di fregarvi mai le persone che adesso si stanno candidando nel movimento sono frutto anche di selezioni abbastanza strette stringenti molto meglio di quelle che hanno selezionato me e Mattia nel 2013 che come ricordate il governo aveva anticipato le elezioni a febbraio e non ci ha permesso di fare una selezione per più turni con le parlamentari che permettono a chiunque di decidere chi si deve candidare nelle liste del Movimento 5 Stelle questo movimento aperto a tutti l'unica cosa sono le regole e poi ovviamente dei parametri che significa che se tu ti iscrivi al Movimento 5 Stelle per votare soltanto perché magari c'hai l'amico da votare non funziona così hanno diritto di voto solo determinate persone si sono iscritte magari sei mesi prima perché se tu iscrivi la mamma la nonna e la cugina per farti votare nei parlamentari facciamo come il PD che ha 500.000 ad essere nazionali ma sotto le primarie diventano 3 milioni poi proprio dopo scompaiono di nuovo e poi si aprono le inchieste questa cosa qui è alla base della nostra sicurezza siamo sicuri di poter governare questo paese e fare quelle cose e se c'è qualcuno che se ne è andato se c'è qualcuno che sta fuoriuscendo dal movimento è perché questo è un movimento difficile è un movimento difficile è difficile stare qui dice qualcuno che siamo troppo rigorosi orgogliosamente rigorosi orgogliosamente rigorosi grazie 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.